A causa dell'emergenza coronavirus, gli uffici della Cisle Marche sono chiusi al pubblico. I nostri servizi restano comunque operativi e starti vicino anche in questo momento di difficoltà. Hai bisogno di noi? Vai sul nostro sito cislemarche.it. Potrai scegliere quello che ti interessa, servizi di patronato, di assistenza fiscale, servizi vari o servizi di tutela sindacale. Nella sezione servizi di patronato troverai tutti i servizi riguardanti congedi, infortuni e pensioni forniti da Inas Cisle Marche. Nella sezione assistenza fiscale potrai accedere ai servizi forniti dal CAF Cisle, servizi fiscali, successioni, servizio casa, colf e badanti. La sezione tutela sindacale riguarda le questioni inerenti ai rapporti di lavoro. Dovrai indicare il tuo settore lavorativo. La sezione servizi vari, infine, è riservata alle problematiche di consumatori, immigrati, inquilini e per coloro che hanno problemi legati al rapporto di lavoro o per effettuare le dimissioni. Qualunque sia il servizio di cui hai bisogno, ricordati di segnalare il territorio dove vivi e di lasciare il tuo nome, il numero di telefono e l'indirizzo email. Puoi scrivere direttamente anche la tua richiesta. Sarai contattato da un nostro esperto. Ricordati, restiamo a casa. La Cisle Marche è al tuo fianco, sempre! Ciao! Ciao!